la casa dove abita la famiglia è in affitto quindi ha un altro problema la prestazione di Nicola Eviero, rappresentante della zona di Bukovina con la scuola con la scuola con la scuola Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Come era? Hubbia! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì! 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 ув e tkkr. Sì! 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 Vot five! C'è scè! Maura! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.